Siamo in via Galifi, una traversa di via Catani, ci sono stati momenti di apprezzione questo pomeriggio per un incendio che si è sviluppato sul tetto di un'abitazione, fortunatamente alla fine è andato tutto bene grazie anche all'intervento di questo signore che ha evitato il peggio. Ci dice cosa è accaduto? Noi stavamo lavorando quando una signora si è facciata e ha detto aiutatemi, aiutatemi, sta bruciando la casa. Allora sono corso con gli estindori, siamo saliti sopra e abbiamo cercato di spegnere l'incendio. Questo è quello che è successo, è stata la stufa a legna che si è incendiata, è partito il tetto, quindi abbiamo levato le tegole perché il fuoco era sotto le tegole. E come diceva che è stato fondamentale il vostro intervento perché si rischiava che cosa? Perché i pompieri sono arrivati subito, però nel frattempo il fuoco si può dire che era abbastanza veloce, e quindi l'abbiamo fermato. Diceva che è stato importante togliere le tegole perché le fiamme erano sotto le tegole, anche se ci andavo con l'estintore di sopra non riusciva a spegnere niente. Alla fine avete utilizzato gli estintori che avete nella vostra officina? Sì, abbiamo aperto che c'era un rubinetto nella terrazza e abbiamo aperto l'acqua per cercare di spegnere l'incendio. Questo è accaduto intorno alle 16.30 mi pare? Sì, sì, super giù l'orario quello. I pompieri sono andati via da poco, da poco significa dopo circa due ore e mezza. Sì. Sentiamo il proprietario della casa, lei è intervenuto dopo perché l'hanno avvertito. Sì, io mi trovavo sulla scorrevole, il tempo che sono sceso di qua di corsa, ho lanciato l'auto così come per fare più presto e poi sono salito. Ho trovato a lui che già era in terrazza, siamo intervenuti tutti e due e siamo saliti sul tetto, anche rischiando grosso pure di cadere. Insomma, abbiamo... Ecco, fortunatamente non ci sono stati danni a persone, però che danni ha avuto la casa? Sì, si è bruciato il sottotetto, tutto quanto il lamellare, tutti i travi, i travoni. Insomma, penso che ci sia stato abbastanza. All'interno dell'appartamento non tanto, perché diciamo che è staccato, ha il solaio ed era sopra il solaio. Fortunatamente a me siamo riusciti a salvare i mobili e la famiglia come prima cosa. Certo, tutto è partito dalle fiamme della stufa a legno? Sì, forse era troppo calda, il tubo... E allora a contatto con il legno, anche se era ben coinbendato, non è stato forse coinbendato o con il tempo si è usurato, perché caldo e freddo si usurano. E quindi sarà che è partito da lì, sicuramente. Dico, ringrazio tutta la squadra dei vicini, in primis lui e poi tutti quanti gli altri, e soprattutto i pompieri. Le ringrazio davvero.